Sì, quest'anno è successo proprio questo, perché nonostante le istanze per realizzare la manifestazione, le manifestazioni siano state presentate addirittura con due settimane di anticipo rispetto a quando l'avevamo presentata l'anno scorso, che è stata una manifestazione autorizzata, è riuscita, tutto quanto. Quest'anno si è verificato un problema con la concessione delle aree demaniali, sono tutte quelle aree del demanio dove si realizza la manifestazione, perché gran parte della manifestazione si svolge in aree demaniali. Qua abbiamo avuto un problema nel senso che il dirigente che doveva autorizzare questa concessione e le aree demaniali vengono comunque pagate da noi, attraverso un canone di locazione. Questo dirigente, che è un dirigente nuovo, ci ha detto che interpretava la norma delle concessioni in maniera diversa, quindi secondo lei andava applicato non l'articolo 30 del codice della dedicazione, quello che regolamenta le concessioni di natura breve, ma secondo il 351 o l'86 del 2021, che è una disciplina che regolamenta sia le autorizzazioni di natura breve, ma quelle onerose e commerciali. Noi abbiamo fatto rilevare che questa non era una concessione onerosa o commerciale, e comunque il decreto 86 sancisce che le feste padronali, le manifestazioni religiose, le manifestazioni sportive, proprio per la loro natura, rientrano nelle cause di esclusione e applicazione di questo decreto. Purtroppo queste ragioni non hanno visto un accoglimento, e quindi l'ITER è andato avanti secondo la prassi del 351, che è più lunga, più corposa, e questo ha portato al fatto che poi alla fine l'autorizzazione non è arrivata, e se fosse arrivata sarebbe arrivata in estremo ritardo per riuscire a mettere in piedi un'organizzazione, che è importante, perché come dicevi è la festa di un quartiere, ma è una festa molto complessa, ed è una festa molto amata e molto partecipata dalla città. Quindi non sono mancate le autorizzazioni per fare la manifestazione, questo ci tengo a precisare, la manifestazione sarebbe stata autorizzata come lo è sempre stata nel passato, e tutti gli adempimenti erano stati fatti. È mancata la concessione dell'area demaniale, che è una cosa importantissima, perché l'autorizzazione del demanio della regione siciliana è entrare nelle aree e poterle utilizzare. Sarà una manifestazione in sordina, quella di quest'anno, ci sarà solamente l'evento religioso, il Luna Park spostato in un'area privata? Esattamente, ci saranno tutte le celebrazioni religiose, che culmineranno il 29 giugno con la tradizionale processione, tutte le attività religiose sono organizzate dalla parrocchia, che fa un lavoro bellissimo nel quartiere, che ci ha sempre sostenuto come questo anno. E le giostre, il Luna Park è stato montato in forma del tutto autonoma e privata dagli esercenti, in un'area privata vicino allo stazzone. Ci tengo a precisare che di tutta questa organizzazione c'è la malezza e il disappunto, lo condivido con tutte le cooperative, con il comitato organizzatore della festa di San Pietro, con tutti quegli attori che fanno parte dell'organizzazione della festa, e che come noi hanno lottato tutti i giorni per cercare che non si verificasse quello che poi si è accaduto. Non ci sarà neanche l'Antinna a Mare, che è proprio il gioco che caratterizza questa festa, tanti fanno notare, però San Vitolo Capo, Castella a Mare e altri borghi siciliani di natura marinara come il nostro lo fanno. Lo facciamo notare pure noi. Tra l'altro l'anno scorso l'abbiamo fatta, riprendendo dopo il Covid una tradizione bellissima, è stata molto partecipata, l'avremmo fatta anche quest'anno, anzi ti dirò che in tutta questa situazione alla fine abbiamo cercato di salvare almeno l'Antinna, però anche lì il protrarsi di questa procedura burocratica e il fatto che per fare l'Antinna ci sono tantissimi adempimenti non è una cosa facile da organizzare, ma noi l'avremmo organizzata senza problemi, però l'incertezza di protarsi di questa situazione burocratica ci ha indotto poi alla fine a dovere mollare per forza. Grazie a tutti.